Ciao a tutti amici, bentornati con il mio canale, io sono Turens, eccoci qua con una nuova vittoria su Fortnite che volevo condividere insieme a voi. Io amici, tengo innanzitutto a ringraziare Prophet, Lorenzo e Ale per la loro presenza e la loro partecipazione in questo video. Come sempre detto amici, per chi volesse fare qualche partita insieme a me, per registrare qualche video, non ci sono problemi, mi iscriveste sulla Play e vedrò un secondino io come organizzarmi. E niente amici, come sempre, io spero che questo video vi piaccia, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi alla mia pagina Facebook e niente, quindi come detto, io spero che questo video vi piaccia, vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo. Bella! Ciao! Vittoria No 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 50 40 Forse Macks Toive Bossa Vattene Vattene Bagnetto E Svignite Vattene Passata Vattene 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 occhio che stanno portati su 2 10 anche da destra da sopra quel albero laggiù a sud oest si eccolo l'ho preso eliminato mai fatto fatto la sola vediamo lo giustizio arriva l'altro arriva l'altro fatto bella bella indovinate che è il primo del lutto anche tu copri una roba l'albero in acqua stanno in acqua l'acqua sì infatti mostro uno sparo cazzo sta avanza giù chi cazzo ci arriva io non lo vedo ma non sa giusto acqua dietro e dall'altra verso l'estate voi se non lo vedo copritemi essendo sparare che eccoli non so da dove da dentro la casa noi non stiamo vando in tec l'orecola il carotto se spacca la dove cosa la casetta ecco ora di ma lo vedo quando è l'ora è stato bisogno da noi ne abbiamo andava in da anch'io colpi di pistola colpi di pombo è uguale quello non stai in tecmo esce o dammi qualche coppola se ce l'hai io io ne ho scelto c'è l'occasione ho visti che ho visti che ho visti che non sparano farò uno sparo feto feto a eccoli bella 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 ma tu pure se a sparacco della giovanni sanno altri altri a sud est sopra quella piccola collinezza la è quelli sono lo sta la casa a livello li vedo ne sono a scappare la caccia era una che costruisce sulla casa a netto altri raga io li vedo però non ci arrivo vorrei sprecare 3 è eliminato un è andato un è andato ok uno fatto c'è sanato c'è sanato ragazzi una montagna la montagna non ho preso di otto 260 di otto ragazza di trovato ragazzi stanno acquistando qua occhio qua questa la casa di mattone raga qua dove sto io qua dove sto io arrivo arrivo lancio palle di neve rega da questa qua ce ne stanno altri due anzi le gambe servono i corsi di lancio palle di neve detto sul tetto occhio 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 ecco lo vede anch'io vedo un colpo ma di ragazza di fastidio sali 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 veloce ristalla da solo ti attendi però ho regato a me mi pigliano da dietro la profeta questo non ammazzo io uno da me ammazzato e ammazzato no no c'è il compagno dietro aiutano occhio la 6 porca di quella ce n'è uno dietro pure l'ora è morto salari anima meno ci conosciuto poi le sanno due dietro con quelli crepano anche io ammazza questi giustizia lista dietro a te ce ne sono due giustizie le vedi che c'hanno ragazze nel trampolino hanno appena usato vedi non mi finita che poi un attimo non voglio occhio occhio ancora in via ragazza hanno ascoltato l'inietta stanno a costruire su dove no vai però non è possibile che palle ma inizia da togliere quattro bozza che palle l'ora e costruirci di costruirci di costruirci di trovare coprice legato per costruirci di non è ti spara non lo vedo la il fortino l'oro ci sanno ci stanno gli effetti di colpi a vedere c'è il 71 61 assalto di assalto 53 se volete posso provare mai proviamo a spacca tutto 2 o 42 colpi ragazze hanno scappato la super fortino ad ovest super fortino ad ovest io ho pochi colpi da saldo che ti grava l'altro non ci sto per la servizio regala 6 ci stiamo in 6 ne è quello dove sono quelli sono possibili perché non stardo in mezzo l'albero vai ok abbassati abbassati io sottendo a quattro colpi d'assalto ragazzo e io 50 perché mi ha fatto una fine di merda dove stanno anche qua davanti davanti a livello via 1 bravo l'ora ma che il compagno per forza quella cosa bella 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 tu chiama tu chiama